Bentornati sulla linea di stitching, io sono Fluido e questo è il primo podcast in italiano dedicato alla realtà virtuale e al video immersivo. Do il benvenuto a Girolamo Daschio sulla linea di stitching, come sapete questo podcast è dedicato alla realtà virtuale e al video immersivo e perché non parlare di video immersivo e realtà virtuale con un VR producer, un giovane VR producer che in realtà sta facendo anche una cosa, sta organizzando una cosa interessante, interessantissima, a partire dal 22 ottobre. Ma raccontaci un po', Girolamo, chi sei, cosa fai e raccontaci un po' di questo evento del 22 ottobre. Allora, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, ma io mi occupo di produzione audiovisiva e sono estremamente interessato alla realtà virtuale e ho già avuto occasione di scrivere e produrre un paio di cortometraggi anche se ovviamente non sono nella selezione dei bravi ed estremamente fortunati che riescono a lavorare molto con la realtà virtuale. E dal 22 al 24 ottobre a Torino, insieme all'associazione Toviar, che è un'associazione di cui faccio parte qui a Torino, organizziamo la sezione in realtà virtuale di View Conference. View Conference è uno dei maggiori eventi di digitale italiani e forse anche mondiali. Nella line-up degli speaker di quest'anno ci sono personaggi come Hans Zimmer, che ha fatto le colonne sonore del gladiatore piuttosto che il capo di Spotlight Stories di Google. E noi, l'associazione Toviar, insieme a Diversion Cinema, abbiamo proposto una line-up di nove cortometraggi in realtà virtuale che, insomma, diano agli spettatori di View Conference la possibilità di vedere un po' il meglio delle produzioni narrative in realtà virtuale. E queste, sto guardando adesso la line-up, comunque stiamo parlando di video lineare, non interattivo, cioè quello che si vede con un Oculus Go, un Gear VR. Assolutamente sì. Avremo cinque postazioni dotate di Oculus Go e saranno, appunto, liberamente accessibili dal 22 al 24 ottobre all'interno delle OGR di Torino. Raccontaci un po' dello spazio dove farete questa location, dove avverrà questa parte dedicata alla voir. Lo spazio è uno spazio estremamente affascinante nella città di Torino, che invito tutti a visitare. Erano delle officine, appunto, grandi riparazioni, perché erano dedicate alla manutenzione dei treni, delle ferrovie dello Stato. Da un anno è stato riaperto, grazie a una fondazione di Torino, la fondazione CRT, e all'interno delle OGR hanno spazio eventi come View Conference, concerti, esposizioni d'arte contemporanea. Si tratta di un edificio storico della città di Torino, della parte, possiamo dire, di archeologia industriale della città di Torino. Dentro all'OGR noi saremo nella sala binario 2, che è una sala dedicata, appunto, interamente alla realtà virtuale, con i nostri visori e le esperienze che siamo riusciti a portare a Torino. Torniamo un po' all'esperienza. Raccontaci un po', brevemente, un po' l'elenco, la line-up che avete scelto. Assolutamente sì, si tratta di opere esclusivamente narrative, cioè con una forte impronta narrativa, in, appunto, lineare, in 360 lineare, proveniente da diversi paesi del mondo. Abbiamo alcune esperienze italiane prodotte in Italia. La prima è Dreams of Blue, un cortometraggio di Valentina Pagiarin, prodotto da Hive Division, che sono una società di produzione veneta. Insomma, poi, oltre a questo, abbiamo Love Pollution, che è stato prodotto a Torino. Il regista è Gabriele Napolitano. Secondo me è particolarmente interessante perché il finanziamento di Love Pollution è stato fatto interamente con fondi pubblici, con Sillumina, il bando della SIAE, e con lo Short Film Fund della Film Commission Torino-Piemonte. E quindi questo potrebbe indicare, potrebbe essere una delle indicazioni per capire come si stanno muovendo i fondi pubblici per il finanziamento del VR in Italia. E poi c'è That's How It Is, sempre prodotto da 720, insieme a Maybe, che è una società di produzione torinese, così come torinese e il regista Max Chicco. E abbiamo cortometraggi anche dalla Corea del Sud. C'è Anobituary e Bloodless, cortometraggi dalla Cina, dall'Argentina, dalla Francia. Il cortometraggio argentino è uno splendido cortometraggio di Maria Elena Pongio, che è stato prodotto anche con il contributo del Biennale College alla Mostra del Cinema di Venezia. Vedo tanti titoli che erano presenti, ad esempio Bloodless era l'anno scorso a Venice VR, Metro 20, Città Siega. Mi sembra anche Real Thing fosse in visione l'anno scorso a Venezia, se non sbaglio. Real Thing lo conosco bene perché ha vinto, tra l'altro, il Cervignano Film Festival recentemente a settembre. consiglio a tutti, se avete la possibilità, di andarlo a vedere a Torino perché è veramente una cosa un po' particolare, lo spaesamento totale proprio che permette la VR. Di Metro 20 non parlo perché sono dei miei amici, perciò andrei un po' a fare un po' di pubblicità troppo spinta. Allora, una cosa, andiamo un po' sulla parte più dedicata alla tua versione VR Producer. Come produttore e anche creatore, perché ha anche girato alcune cose in VR, come trovi questo movimento della VR in questo momento, della realtà virtuale, dello storytelling, della narrazione attraverso la realtà virtuale? Allora, trovo molto interessante che si stia passando sempre di più dalla meraviglia della tecnologia innovativa dalla meraviglia per la grande qualità dei contenuti. Ogni anno, da che esiste Venice VR, vado a vedere i contenuti ed è una grande fortuna, credo, che abbiamo qui in Italia, poi io sono veneto, di poter avere in un posto così vicino il meglio della produzione artistica del mondo. Insomma, una selezione del meglio della produzione artistica del mondo. Sono molto curioso di sapere cosa succederà, della qualità dei futuri progetti in realtà virtuale. Sono molto voglioso di scoprire come saranno. A Venezia c'era tutta una parte industry con i pitch dei progetti del Venice Production Bridge e i progetti che probabilmente verranno mostrati a Venezia l'anno prossimo, i prossimi anni che sono quindi in sviluppo, sono assolutamente incredibili. Io credo che ci si sposterà sempre di più su una maggiore qualità artistica che diventerà presto più importante dell'innovazione tecnologica e ho grandi speranze nella diffusione degli Oculus Go per la creazione di un mercato. Credi che si creeranno due forme artistiche? Una lineare che potremmo più accomunarla, diciamo essere un po' più vicina al cinema tradizionale e un'altra più sull'interattivo nell'ambito del gaming perché ad esempio mi hai citato Venezia e c'erano molte storie, molti racconti che venivano realizzati ad esempio con dei game engine, con delle strutture che non sono videocamere 360 ma sono elementi che vanno costruiti quasi in tempo reale. Pensi che si divideranno queste due strade o che manterranno una sorta di amalgama e magari si divideranno i due pubblici? Ma io credo che queste due modi di intendere la tecnologia VR per prodotti artistici rimarranno sempre molto collegati. Così come il cinema prende moltissimo nelle inquadrature e nei modi oramai dei videogame e i videogame hanno preso dal cinema, così io credo che le esperienze VR interattive saranno mostrate negli stessi posti delle esperienze VR lineari e ci sarà la possibilità di grandi scambi e commistioni tra appunto il cinema, la realtà virtuale, la realtà virtuale interattiva e i videogiochi. Sono rimasto molto colpito dalle esperienze in realtà virtuale interattiva presenti a Venezia. mi è piaciuto tantissimo Orrorifical e Real Virtuality che addirittura sembra un pezzo di teatro interattivo. È qualcosa di incredibile. Diciamo che in quel lavoro è stato proprio demolito totalmente il quarto muro, il fourth wall, quello con cui si lavora. Se non sapete di cosa stiamo parlando, The Real... No, il titolo è sempre complesso da ricordare. The Real... The Real Virtuality. Vero, The Orrorifical e Real Virtuality, sì. In realtà è un percorso abbastanza particolare perché si inizia con una cosa che è quasi una performance, diventa una scena di ripresa e poi passa in realtà virtuale e poi ritorna nella realtà scenica, finta, fittizia, ma sempre in un ambito di spaesamento cognitivo, ma anche di presenza di cosa sta succedendo già dall'inizio. Perché non voglio svelarvi tutto, anche se è abbastanza difficile da poterlo vedere, ma speriamo di rivederlo in Italia perché veramente merita come esperienza. Però quelle sono più installazioni, no? Cioè devi avere... C'era un gruppo di lavoro attorno. Vogliamo citare anche VRI, quando entri in questi cinque personaggi che entrano all'interno di una coreografia, oppure Eclipse. Non so se le hai provati, queste due esperienze. Eclipse non sono riuscito, era sempre in overbooking e invece VRI, sì. E questo è un limite tra gaming e cinema e realtà virtuale, è sempre una cosa un po'... questo limite è un po' difficile da definire. Come tu hai detto, questa ricerca di transmedialità tra il passaggio tra un elemento e l'altro. Tornando un po' sempre alla tua esperienza di VR producer e anche sul discorso che hai fatto sull'aspetto di finanziamento, perché ovviamente adesso non c'è ancora, ovvero si sta creando una situazione di produzione e di finanziamenti, di grant, ad esempio un grant è Biennale College VR che hai citato prima, ma esistono ad esempio i film fund in giro per l'Italia, mi hai citato Torino ad esempio, ma come funzionano questi sistemi? Come il cinema tradizionale o è una cosa ancora in via di definizione? A Torino credo siamo molto fortunati perché l'anno scorso lo Short Film Fund, che è un fondo dedicato esclusivamente al cortometraggio, ha finanziato una parte di Love Pollution di Gabriele Napolitano. addirittura sempre l'anno scorso è stato erogato per la prima volta un fondo dedicato esclusivamente a progetti con i nuovi media e anche tecnologie immersive come la realtà virtuale, ha vinto un progetto proprio che verrà, lo stanno girando, lo stanno girando qui a Torino. Quindi Piemonte è una situazione abbastanza fortunata, credo, rispetto al resto d'Italia. So però che anche a Milano, al Milano Film Festival, hanno avuto una sezione in realtà virtuale, diversi festival in Italia hanno avuto delle sezioni in realtà virtuale e quindi credo che anche i fondi di finanziamento pubblici inizieranno a dedicarci a dedicarci qualcosa, spero. Sempre legati alla produzione, come vedi invece la distribuzione visto che stai collaborando comunque con una realtà che funziona da struttura distributiva anche? Certo, ma io credo che Diversion Cinema stia facendo un lavoro incredibile sia nella gestione dei cinema a Parigi che nella distribuzione e diffusione della realtà virtuale. Sono d'accordo con loro nel dire che la grande questione è cercare di far vedere i video in realtà virtuale a più gente possibile perché l'esperienza è incredibile e manca ancora una massa critica che permetta l'esistenza di una moltitudine di cinema in realtà virtuale. Io adesso conosco in tutta Europa sicuramente la mia con una conoscenza assolutamente limitata ma un paio di distributori e lo stesso a livello di distribuzione online anche lì pur avendo io una conoscenza molto limitata non vedo molti nomi e quindi sono estremamente curioso di quando si muoveranno Sky Netflix Amazon e credo che quando punteranno loro alla realtà virtuale sarà tutta un'altra cosa però per ora la distribuzione è praticamente assente nella mia opinione. Un po' legato alla distribuzione e anche il tuo progetto anche se non è un progetto di distribuzione però è quasi una sorta di guida dei film in VR penso che sia la prima guida stiamo parlando di realtàvirtuale.eu questo progetto raccontaci un po' come è nato e come si sta evolvendo allora realtàvirtuale.eu è nato come notiziario dell'associazione ToVR in realtà è ancora a uno stato di avanzamento estremamente estremamente primitivo che però stiamo proseguendo nella redazione l'idea è quella di dare origine a una sorta di directory una sorta di internet movie database delle opere in realtà virtuale con una forte impronta narrativa ToVR è un'associazione nata a marzo di quest'anno ma l'intenzione è quella o di unirci a un network più grande o riunire anche solo virtualmente tutti i riferimenti alla community che di realtà virtuale si sta occupando a livello italiano e in questo momento ToVR è ancora una questione di volontariato e quindi non abbiamo nel tempo nelle forze né di caricarci sopra contenuti né di dare forma a questo network ma quando questo network ci sarà lo dico qui lo dico a te e non ho problema di dirlo insomma farebbe anche molto piacere di proporti di farne parte insomma ti ringrazio per questo invito infatti mi collego un po' a questa tua connessione a questa rete prendo spunto per capire anzi voglio capire da te com'è la scena italiana della realtà virtuale perché ad esempio nel mio ambito vedo che questo podcast è in assoluto il primo e ad ora l'unico podcast che parla di realtà virtuale e video immersivo in lingua italiana in lingua inglese ce ne sono tre quattro alcuni molto molto importanti diciamo tre quattro importanti poi ce ne sono altri però hanno una diciamo una cadenza abbastanza non continuativa però in Italia di realtà virtuale quasi non si parla secondo te la scena italiana non esiste ancora si sta formando oppure non c'è interesse ma allora io purtroppo alla realtà virtuale non posso dedicare il tempo che vorrei ma sempre un po' conosco la scena torinese e mi sembra abbastanza vivace nel senso che un po' per il Torino Short Film Market che è un evento industri dedicato alla forma breve che quest'anno avrà la sua terza edizione e che dall'anno scorso ha avuto un'intera sezione dedicata ai contenuti digitali nuovi media e realtà virtuale e quindi al Torino Short Film Market ho avuto l'occasione di incontrare molti professionisti che si dedicano alla realtà virtuale e quindi in sostanza la scena torinese mi sembra abbastanza vivace e la presenza di due fondi dedicati ai nuovi media che hanno finanziato i nuovi media mi sembra una certificazione di questo il resto della scena italiana ammetto di non conoscerla beh io e te ci siamo conosciuti al workshop sul VR del Trieste Film Festival e anche lì e anche lì la sensazione era molto positiva diciamo la sensazione estremamente positiva non conosco purtroppo al di fuori del Piemonte sì so che a Milano ho fatto qualcosa col Milano Film Festival ma lavoravo e non sono riuscito ad andare e quindi non sì la sensazione è più che sia dedicata più al al discorso impresa perciò cose legate a spot pubblicitari o ad azioni di marketing più che la parte artistica diciamo del lo sviluppo artistico della realtà virtuale come magari anche metodo di ricerca questa è la mia impressione della scena italiana per ora perché vedendo anche in giro infatti sono molto colpito infatti sono curioso di 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 vedere i i tre lavori italiani che che presentate perché cioè secondo me abbiamo bisogno di autori che creano in VR cioè in video immersivo anche anche in Italia perché se guardiamo in giro la Francia è molto presente gli Stati Uniti sono molto presenti ad esempio in Europa penso che la Francia è il paese che la fa da padrona dal punto di vista per tutto un motivo di finanziamenti anche di facilità di produzione e semplicità di produzione guarda un'ultima un'ultima domanda che vado un po' a chiedere un po' a tutti quelli che partecipano a questo podcast la tua visione della realtà virtuale allora prima cosa cos'è la realtà virtuale per te la realtà virtuale è una tecnologia veramente interessante e diventerà è una forma d'arte estremamente interessante che soffre ancora troppo dei limiti tecnologici nel senso che è veramente scomodo anche per me che lo uso tantissimo utilizzare il visore e io credo sia una forma d'arte e di comunicazione che avrà un'enorme importanza nel futuro ho visto in realtà virtuale dei documentari incredibili e credo che sia il documentario una delle forme più riuscite per ora e niente io la vedo come una grande passione prima dell'ultima domanda che è collegata un po' a questa adesso parlando di documentari mi è venuto in mente che sta prendendo piede anche una realtà virtuale ovvero il video immersivo in modalità 180 cosa ne pensi di questa variante dimezzata dell'immersività 360 e penso che non abbia la stessa non provo la stessa fascinazione mi chiedo credo ci possono essere delle cose estremamente interessanti facendo un video solo a 180 gradi non so se sia capitato anche a te ma una volta sono andato al planetario qui di Torino e facevano delle proiezioni di video a 180 gradi e quindi credo che possa essere molto bello vedere degli schermi dedicati come ce ne sono in molti planetari in giro per il mondo delle opere così credo che molte cose a 180 gradi che io ho visto erano alcune molto interessanti dal punto di vista dell'advertising secondo me chi fa meglio advertising a 180 gradi sono quelli di Amaze è un'app che c'è che c'è su Oculus perché si rendono conto che lo spettatore guarda comunque spesso verso un unico luogo e quindi che senso ha fare un punto di visione così grande finora io non ho visto cose in definitiva finora non ho visto cose così interessanti così come in realtà virtuale bene ultima domanda e poi ti chiederò di ripetere le date e dove e come e quando c'è l'evento VR a Torino ma l'ultima domanda è dove va la realtà virtuale e il video immersivo dove andranno come le immagini da qui a cinque anni sappiamo che un anno nella realtà virtuale è praticamente un secolo quasi no un secolo no però una decina da anni nel cinema tradizionale perché la velocità di sviluppo tecnologico è veramente elevata ma come la vedi la realtà virtuale e il video immersivo o se ci sarà una commissione con una realtà aumentata nel futuro ma io spero che in cinque anni ci sarà un'evoluzione tecnologica sufficiente a rendere molto più agevoli i visori potrebbe essere con una commissione con la realtà aumentata al momento gli unici occhiali di realtà aumentata che ho provato non mi davano una grande una grande sensazione io io credo che la realtà virtuale potrà diventare di massa solamente se risolverà il problema del visore credo che come forma d'arte ora che il festival di Venezia ha dedicato così tante risorse alla realtà virtuale sia molto difficile tornare indietro ovvero non non si rischia non credo che la realtà virtuale rischi quello che è stato per il 3D e niente spero tantissimo di poter buttare nella differenziata gli Oculus Go che ho e avere finalmente già l'Oculus Go è più comodo ma avere finalmente qualcosa di ergonomico e di facile così come è facile guardare i video sul telefono guardarli guardarli in realtà virtuale allora ricordiamo ancora una volta in chiusura View VR a Torino a Torino dal 22 al 24 ottobre all'interno del programma di View Conference all'OGR di Torino sala binario 2 in descrizione avete tutti i link sia a realtàvirtuale.eu che al sito dove ci sono tutti gli elenchi cioè tutta la line up dei vari video bisogna prenotarsi come funziona? bisogna accreditarsi a View Conference tramite il loro sito ok una volta dentro View Conference non ci sarà bisogno di prenotarsi l'accesso è libero e però per entrare a View Conference è necessario tramite la loro organizzazione la modalità di visione dei dei lavori in VR sarà a un orario prestabilito a slot alle 10 alle 18 uno dei visori sarà sarà possibile prenotarsi abbiamo moltissimi abbiamo nove cortometraggi e quindi ogni ora sarà possibile sarà possibile prenotarsi e gli altri saranno ad accesso libero bene ringrazio Girolamo per essere stato con noi su Alina di Stitching mi raccomando se avete la possibilità il 22 dal 22 al 24 ottobre a Torino c'è questa manifestazione dedicata alla Voir da non mancare intanto ringraziamo Girolamo e ci sentiamo la prossima volta sempre sulla linea di Stitching ciao grazie mille ciao grazie